Cappotto in saldo? Scarpe in saldo? Arredo in saldo! Ecco la novità! Mobilia Megastore, tra pochi giorni, amplia la sede di casetta e per l'occasione ha preparato una straordinaria megapromozione. Saldi su tutta la merce esposta in pronta consegna, che puoi pagare eccezionalmente a prezzi di fattura. Solo 2.990 euro per questa camera da letto con armadio a Dante Scorrivo, i comò e i comodini. Solo 990 euro per questo divano in pelle 3 posti più 2 posti. Solo 3.990 euro per questa cucina angolare con elettrodomestici. Solo 380 euro per questa parete con vano porta-tv e anta laterale in vetro satinato. Visto che prezzi? Non perdere l'affare. Perché da Mobilia Megastore puoi pagare in 48 mesi a tasso zero o in 60 mesi con prima rata dopo 180 giorni. Poi scegli il regalo. PC portatile, TV color widescreen, pacchetto viaggi weekend boscolo o trolley roncato. Da Mobilia Megastore si saldi chi può straordinaria megapromozione su tutta la merce esposta. Anche la domenica solo a Caserta Sud.